ciao ciao amici sono il carletto e come sempre questo il mio canale dove vado a recensire stato action figure robo shogokin sensei amic lot di tutto tutto quello che è il mondo del collezionismo che io adoro quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale lo potete fare andando in alto schiacciando iscriviti o alla fine quando esce la mia faccia con guanto di tanos anche lì cliccate e potete iscrivervi a fine recensione allora che dire allora oggi andiamo a recensire il robot che veramente il distributore italiano ci ha fatto aspettare dall'uscita in giappone due mesi non arrivava più finalmente mi è arrivato e che dire andiamo a recensire facciamo la seconda recensione riguardante il gorgian gorgiani tra il robot la testa la strategia guardia nell'energia allora vediamo questa qua è il box da parte frontale questa qua la parte posteriore e oggi proprio recensiamo il gorgian che tutti hanno criticato invece a me piace un sacco per quello di quel collezionismo ragazzi è una cosa proprio individuale perché una cosa che piace a uno può far cagare un altro però dire a me piace piace un sacco già anche il box quindi oggi facciamo questa recensione e poi vi ricordo che domani insieme a quattro miei amici collezionisti li vedremo proprio tutti e due a fianco sarà uno scontro all'ultimo sangue con il cms dove andremo a vedere dal libretto al packaging tutto quanto faremo una cosa divertente una votazione andremo a decretare il gorgian i punti migliori per quanto riguarda il bandai i punti migliori per quanto riguarda cms quindi se siete appassionati del gorgian seguitemi anche nella recensione di domani dove saremo in cinque testoloni a fare un paragone tra i due modelli allora andiamo l'unboxare vediamo cosa ci ha regalato casa bandai a questo giro amici 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 sono esaltatissimo qua è tutta un'altra questione da me mi piace un casino guardate già possiamo vedere che abbiamo la doppia faccia da andare applicare al gorgian poi vediamo il proteser che come dimensioni non c'entra niente con il cms il dellinger la stessa cosa il garbi giganteschi fatti benissimo ragazzi scala mi piace un sacco guardate anche daigo invece di avere quel soldatino ostiato abbiamo anche il daigo una basetta grandissima che come possiamo vedere 123 andiamo ad alloggiare tre robot un sacco anche qua di accessori stupendo stupendo mi piace ragazzi quindi io direi diamolo subito a vedere nel dettaglio robot per robot armi per armi tutto quanto eccoci qui eccoci qui amici partiamo subito nel vedere velocemente il libretto allora il libretto vedete qua stori c'è dai con con cliente la pantera e ci racconta questi due individui combatterò contro i badotte scherzo ragazzi ovviamente non ci capisco un tubolo del giappo giappo però ve lo far vedere guardate che bello qua si vanno a riprendere i vecchi le vecchi immagini del vecchio vintage il poppy se non sbaglio guardate qua tutto quello che troviamo all'interno e poi qua iniziano su tutti i pezzi che trovava all'interno del gx e poi qua tutti i moduli comandarli vedete daigo che va dentro protester poi protester che va dentro dei ringer poi del ringer che va dentro il garbi e diventano il guardian diventano il guardian poi vediamo qua qua sono tutte le armi la fine quadro ancora la faccia che si può cambiare come vi ho già detto prima la testa del robot del robot poi qua vedete lo scudo la basetta che secondo me questa qua è gigantesca potevano metterla una grande una piccola perché se uno lo espone solo in cordia poteva starci anche l'idea di fare una base scomponibile in tre nel senso noi riteniamo tutte e tre teniamo gigante così ne vogliamo tenere solo il guardian in vetrina si staccava magari solo il modulo centrale questa è l'unica cosa la pedana troppo grande un po grandicella quindi occupa ragazzi un sacco di spazio in vetrina la basetta ve lo dico già adesso la basetta occupa un sacco di spazio vedete questo qui è come infatti bandai ci consiglia di metterlo in vetrina vedete guardate che bello a me piace mi esalta allora partiamo subito nel vedere la basetta che infatti non andrò a montare perché l'abbiamo intanto già stravista qua davanti vedete abbiamo il logo gx 95 son of shogokin guardian questa qua è la basetta quindi è inutile adesso è inutile 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 allora partirei prima dagli accessori nel primo nel primo blister adesso le faccio vedere uno a uno andiamo a trovare vabbè la parte qua che va a completare la basetta lo spadone del gold rete del gold ragazzi del guardian guardate spettacolare gigantesco la spadina del dellinger vedete e poi tutte le altre armi vedete questa qua che praticamente quella che va al pugno le due lame questa qua altre dente troviamo tutte fatte molto meglio più grandi ovviamente perché in scala più grandi comunque anche queste in plastica anche queste qua in plastica date poi troviamo anche sei mani faccio vedere proprio tutto 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 ragazzi bene nel dettaglio sapete che io voglio far vedere tutto vedete troviamo anche in questo della bandai un sacco di armi di manine vedete quali armi del protester con le manine le sue manine tutto quanto veramente fatto bene poi 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 troviamo clint o finalmente troviamo clint guardate qua cos'è bella clint finalmente troviamo clint perché di là avevamo un soldatino un gatto con due puntini grigi nella versione di casa cms quindi finalmente qua troviamo cliente solo questo vale l'acquisto la gente mi guarda che si vedono gli spazi nelle gambe guardate io mi ero dovuto far fare questo clip farlocco e fimo perché non riuscivo a tenere quella ubriosità nella vetrina quindi finalmente abbiamo un clint fatto bene poi dopo vi faccio vedere anche lo scudo bellissimo fatto veramente bene qua lo sappiamo si va ad aprire vedete fatto bene 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 o sono contento abbiamo il daigo che adesso vi faccio vedere che non è un soldatino come anche nell'altra versione però effettivamente qua non mi piace un granché il viso però almeno dai al suo full ar è snodabile comunque è già accettabile potevano farli meglio sicuramente la faccia la faccina però almeno ragazzi è accettabile questa qua la seconda faccia testa diciamo che possiamo andare infatti metterò questa al al gordian guardate nelle altre versioni gli occhi e siccome era molto più piccoli erano solo delle vignette qua invece è bene evidente il giallo degli occhi quindi passiamo proprio vedere il garden ragazzi lo dico già è bello massiccio è bello massiccio vedete guardate che bestia il garden allora cos'è successo che molti hanno criticato il fatto è solo poggio giù per farvi vedere una cosa non ha criticato il fatto noi ce l'abbiamo così in vetrina se li teniamo tutti e tre hanno criticato questo spazio qua e i due piattonzoli qua allora effettivamente è vero ci dà l'idea che all'interno è tutto vuoto però il gordin ragazzi era così erano tre robot che entravano uno dentro l'altro e quindi è giusto anche vedere questi spazi così perché erano tre mecca tre robot che entravano uno dentro l'altro pilotate alla sua volta all'interno ancora dal daigo quindi è giusto che sia così anche perché se noi lo guardiamo in vetrina così non vai a far caso a questo spazio qua ce lo devi mettere così come se gli vai a dire guardati sto guardando le mutandine però non è questa cosa non ci interessa se noi lo vediamo così è vero agli spazi ma è massiccio e bello guardate la verniciatura che spettacolo guardate la testa che spettacolo vedete bella solida rigida è fatto a parer mio proprio bene guardate la lucentezza di questo azzurro qua veramente bello 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 a me piace sia è un po troppo vuoto l'interno ma è giusto che sia così vediamo perché il cordia ne era così poi la parte dove lui lanciava il missile dopo lo vediamo li mettiamo un po di tutte le armi ha fatto il piede anche qua come al solito bandai la punta che si può piegare vedete comunque il garbi è massiccio la parte qua in metallo i piedi sono in metallo però diciamo che solo la parte qua alta e metallo le altre parti sono in plastica vediamo il protester al volo protester dico già tutto in plastica amici però molto più bello perché finalmente protester eurobo l'altro era uno sgorbio mentre può essere un robot vedete la testa fatta anche molto meglio vedete non è schiacciata come abbiamo visto nell'altra versione protester completamente in plastica ma devo dire la verità è una di quelle plastiche che tu senti il materiale è buono non è una plastica scadente amici la stessa cosa in dellinger dellinger la stessa cosa tutto in plastica ma dettagliatissimo guardate come è dettagliato stona un pochettino mentre questo rosso un po plasticoso così effettivamente potevano questo può farlo in metallo questa cosa qua non l'ho capita perché effettivamente questo rosso stona questo rosso qua non mi piace un gran che mentre l'azzurrino ci può stare il protester quello più piccolo ci sta dentro anche in plastica almeno questo secondo me questo il grande difetto lo dovevano fare in metallo almeno il dellinger lo dovevano fare in metallo perché essendo grande si vede un po tanto che questa qua la plastica però dico è quella plastica come gli apparati quelli la di di buona qualità non è una plastica amici devo dire la verità scadente è una buona plastica bella solida però plastica quindi questa è l'unità amici 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 qua la gente non capisce una beata mingliolus di ciuflis secondo me come si fa a dire che questo robot è una cagata pazzesca questi sono pazzi nel cervello a me piace un sacco non mi interessa il fatto di quando li vediamo scomposti che si vedono le parti vacanti perché il robot era un robot che si combinava quindi poi dopo lo vedremo quando lo andiamo a trasformare in gordian che la maggior parte delle parti si va a chiudere si vede anzi come deve essere sotto l'altro robot posabilissimo mi piace un sacco veramente bello a me piace questo godia mi esalta mi esalta bellissimo bellissimo vado a levare dalla vetrina a quella ciofeca di cms che metterò in vendita quindi se qualcuno vuole il cms poi mi scriva i commenti glielo dopo volentieri e questo qua in due per sia scomposto che composto per me va a prendere posto dell'altro ciofecone ragazzi guardate che spettacolarità mettiamolo più veloce perché sennò così rompere balle guardate che spettacolarità guardate che posabilità gli ho messi tutti e tre in posa di combattimento guardate come si piegano le gambe come stanno su incredibile posabilità incredibile l'ho messe in fase di attacco tutti e tre sia il garbin il proteser e il dellinger vedete la gamba addirittura si snoda in tre parti si snoda a metà qua alla caviglia e al piede vedete le sono date in tre parti tutte e due anche il proteser vedete 1 2 3 si snoda al ginocchio metà gamba e caviglia guardate eccezionale spettacolare non so come hanno fatto a criticare questo gioiellino secondo me è veramente bellino qua la gente non ne capisce loro hanno voluto dare come fa sempre bandai la posabilità al modello è l'unico modo per tenere la scala secondo me e fare la posabilità era fare quello che ho voluto fare poi hanno voluto comunque tenere anche molte parti somiglianti perché loro sono affezionati al vintage e quindi però io ribadisco è proprio una questione di gusti a me non dispiace affatto a me piace questo guardian di casa bandai eccoli qua ragazzi guardate che spettacolo e adesso siamo pronti a formare il cordia guardate qua sono tutti in posizione andiamo a formare il cordia già cambiata anche la testa del cordia ragazzuoli a questo punto penso che la gente non capisca un mare di ciuffoli come si fa a dire che questo robot specialmente lo sto vedendo adesso dal vivo per la prima volta trasformato il guardian è brutto cioè è incredibile guardate vedete come giusto che sia vedete il denger all'interno vedete eccezionale stupendo volutamente guardate anche la parte qua frontale sulle spalle quale gambe non si vede più lo spazio perché c'è il bianco sotto del del ringer quindi praticamente trasformato in guardian il del ringer all'interno va a coprire vedete tutti quegli spazi che voi vedavate e quindi secondo me è eccezionale invece vado contro tendenza perché quando a me una cosa mi esalta a me piace un sacco tant'è vero che terrò il 2 per di questo darò via sicuramente cms però due per di questo e è qualcosa di incredibile nelle piccole cose guardate la mano che tiene anche lo scudo vedete una mano fatta apposta allungata vedete che così voi anche lo riuscite a tenere lo scudo perfettamente dritto guardate che mano particolare sono delle piccole cose che comunque ti fanno grande secondo me il prodotto perché in quello della cms noi dovevamo andare a muovere il braccio per far rimanere lo scudo dritto quindi io non so veramente come ha fatto a criticare questo guardian che eccezionale guardate dove gli ho messo anche clint sta esattamente sulla spalla anche del guardian pensate che sta anche girando e va pure a rilento e non cade dispostato un pochettino quello disco tanto criticato in vetrina se non volete usare la basetta perché occupa tanto spazio lo mettete così con cliente sulla spalla eccezionale bellissimo qua non capisce un cavolo di un ciuffulus la gente io non riesco a capirlo a me piace un casino e poi vi faccio vedere due per perché ecco provate a fare una cosa adesso ve la farò vedere nel finale a tenere tutti i moduli aperti all'interno del guardian ragazzi rimane in piedi quindi è anche bella quella lì l'idea di tenerli i tre scomposti tutti e tre che si uniscono secondo me non è male secondo me non è male questo pezzo lo ribadisco a differenza di tutti quanti che avevano scritto delle stronzate incredibile cagata mostruosa cose invece a me piace e questo è bello del collezionismo che ciò che non piace a qualcuno può piacere a qualcun altro come in questo caso per me il guardian bandai è stra promosso non potevamo chiedergli niente secondo me di più veramente a me piace sinceramente parecchio amici che dire e finisce anche questa recensione sul guardian bandai che tutti ambucciati io lo promuovo mi piace un sacco guardate basta soltanto stringere la gambetta guardate adesso è caduta perché l'ho piegata però se voi stringete la gambetta all'interno qua così potete anche muoverlo clint e non cade sta sopra la spalla del guardian eccezionale mi piace un sacco materiali eccezionali le parti vuote quando noi lo trasformiamo in gordian vanno completamente a chiudersi quindi non vediamo più spazi come potete vedere questo qua che cercava le persone le mutandine no si vede tutto vuoto dentro vado alla ricerca delle mutandine del gorgia invece è un assurdità perché secondo me è giusto che così è massiccio mastodontico e bello l'unica pecca come ho detto all'inizio quel del in guerra all'interno il garmin poteva fare alcune parti in metallo specialmente il petto ma è l'unica cosa perché per il resto secondo me è fantastico vi faccio vedere anche un'altra cosa anche gli aria pugnatura dello scudo vi volevo far vedere nel finale questa cosa qua che può essere una stupidata ma se a qualcuno piace può tenerlo in vetrina anche perché il guardian era così guardate che cosa va a succedere adesso si è staccata il cornino perché gli ho cambiato se non ve ne siete accorti anche la testa del guardian per farvi vedere tutto apriamo tutto guardate che figata perché noi con questo guardian qua riusciamo a tenere in vetrina vediamo se riesco a farvelo vedere amici gli fate fare un solo saltello si alza un pochettino guardate qua questa cosa qua ve la voglio far vedere perché prima sono riuscito a farla voglio far vedere questa cosa qua allora cosa che con gli altri modelli di guardian è impensabile fare però il bello del collezionismo nostro è questo guardate qua possiamo tenere questi quasi alzano in modo che si vedono tutte e tre anche le teste e si vede anche daigo guardate qua possiamo tenere il 3x nel 2x farlo così per far vedere il guardian che guardate qua si vede completamente si vedono di lato in vetrina illuminate anche le teste all'interno si vede anche la faccia di daigo ragazzi è eccezionale perché io vi sfido a prendere il guardian della cms l'evolution toys e fargli questa roba qua guardate qua lo possiamo anche agitare muovere non si muove di un millimetro è stato fatto secondo me apposta il guardian era così entravano tre robot uno dentro l'altro e bandai ci ha fatto anche questa cosa qua che a voi magari non ve ne frega un cazzo ma il 2x così in vetrina e tutti gli altri 3 accessorato lo rende unico guardate qua secondo me questa cosa eccezionale per questo c'è la chiusura sui piedini non so se questo nelle altre recensioni hanno fatto vedere guardate lo potete anche agitare muovere così non si smuove e guardian era lui erano tre robo con daigo che entravano uno dentro l'altro ragazzi finisce qua la mia recensione ha mai esaltato un casino mi è piaciuto un casino proprio questa cordia quindi vado contro tendenza a tutti quei farfalloni che dicevano che era una porcata ma il collezionismo è proprio questo che era cose che a noi piacciono magari ad altre non piacciono domani faremo il paragone in cinque persone collezionisti di questo contro il cms ma la vedo già proprio un 10 15 a 0 però non voglio dire niente perché questo è il mio pensiero e vedremo anche cosa dicono gli altri stupendo mi è piaciuto se non siete ancora iscritti al canale in alto adesso alla fine c'è la mia faccina col guanto di tano scliccate e se vi è piaciuta questa recensione mettete un like ciao ragazzi finisce questa recensione a presto a domani con il bandai di scms ciao